Un aereo militare cileno con 38 persone a bordo è scomparso dai radar dopo essere decollato dal sud del paese per una base in Antartide. L'aereo, un C-130 Hercules, è partito alle 16.55 e ha perso i contatti radio alle 18.13. La conferma è arrivata dall'aeronautica cilena, che ha spiegato che 17 a bordo erano membri dell'equipaggio e gli altri 21 passeggeri. In un tweet anche il presidente Sebastiano Pignera si è detto sgomento e ha affermato che sarebbe volato a punta arena se insieme al ministro degli interni, Gonzalo Blumel, per incontrare il ministro della difesa Alberto Espina e monitorare la situazione.